E' la balla! E' la balla! E' la balla! E' la balla! Grazie. 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 Cosa? Mi metto qua. Mi volete anche la prima. Uh. Uh. Scusa. 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 Grazie a tutti. E' bellissimo. 30 30 30 30 30 30 40 30 40 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 42 Grazie. Grande Pippo. Fra. Come stai? Guardate. Pippo. Oh. Guardate. Sei spettatore. Sei spettatore. Eh no. Ah perché lo stai facendo vedere in streaming? Vi zanotto. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Non balla ragazzi 2-0 2-0 2-0 2-0 buonino 2-0 2-0 C'è il primo 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 C'è il primo